E a destra invece Bersani, lei è d'accordo con chi dice, pensa che adesso Giorgia Meloni, queste elezioni lo hanno dimostrato, non è più invincibile? Io non ho mai pensato che fosse invincibile, anche perché sarebbe ora di vedere che la mela è divisa in due, c'è una destra forte, molto forte, ma c'è un resto del mondo che più o meno è lì, è lì attorno, e il fatto che questo resto del mondo non si concepisce ancora come un'alternativa, come un'area che organizza un'alternativa, il punto è questo, non perché la Meloni sia invincibile, ma perché c'è di invincibile in democrazia, non c'è nessuno di invincibile in democrazia. Ecco, però, Annalisa Terranova, tu...